Insomma, 3 metri, 5 metri, 8 metri, mi pare che ci sia ancora un po' di confusione. Un po', anche perché ho rilevato nel servizio numerose istigazioni alla violazione della legge. Esatto. Massimo Tosi, seguici così saprai bene cosa dire bagnanti. Allora, principio generale. Il lido del mare è demaniale, cioè la spiaggia appartiene allo Stato. Lo Stato può darla in concessione a privati, secondo tutta una serie di normative e di regole, che possono installare stabilimenti balneari. Tuttavia, tuttavia, la legge prevede che c'è un pezzo di battigia, quello adiacente al mare, che deve essere lasciato libero. Articolo 11 della legge 217 del 2011. Il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia anche a fini di balneazione entro i 5 metri al ridosso dell'acqua. Quindi, regola generale, gli ultimi 5 metri di spiaggia devono essere liberi di libero accesso e chiunque può andarci non per stanziare, ma per accedere alla balneazione. Quindi, in linea generale, io posso andare in qualunque spiaggia italiana, anche dove ci sia una concessione balneare, chiedere di passare, senza fermarmi sulla battigia, accedere al mare. Quindi non si può sostare, perché è un problema anche di ordine pubblico? No, certo, perché quei 5 metri servono a fini di sicurezza e circolazione. Cioè, lo Stato vuol garantire che ci siano gli ombrelloni, le sedie, le installazioni, però c'è uno spazio che anche a fini di sicurezza e di salvataggio deve essere lasciato libero. Però, su un tratto di battigia, anche il Comune può porre dei vincoli. Allora, noi a chi dobbiamo dare retta? Allo Stato o al Comune, visto che abbiamo detto che la zona è demaniale? Posso rispondere dopo a questa domanda insidiosa che lei mi fa? Lei mi fa un trabocchetto, che qual è il problema? Il problema è che ciascun Comune, ciascuna capiteria di Porto, hanno competenza a disciplinare nella loro porzione territoriale la battigia. E quindi, al di là della regola generale dei 5 metri, noi abbiamo in ogni Comune, possiamo avere un regolamento che disciplina diversamente, per esempio specificando che ci può essere il diritto di sosta temporanea. Quindi, il consiglio del giurista a chi va al mare è di procurarsi l'ordinanza della capiteria di Porto del Comune, leggerla attentamente, quindi andare al mare con le carte, come facciamo noi giuristi. Ecco, ma queste regole valgono anche per le spiagge libere? Se lei si volta, c'è una bellissima foto. C'è una spiaggia. C'è una spiaggia libera. Guardi quanto sono vicino. Sembra quasi che lì le regole non valgano? Orrore per il giurista. Anche nelle spiagge libere bisognerebbe sempre lasciare i 5 metri liberi. Quindi tutte quelle installazioni sono tutte abusive, perché la zona di rispetto del mare dovrebbe essere lasciata libera. Poi ovviamente sarà alle capiterie di Porto o ai Comuni farle rispettare. Comunque la gente che gioca con i racchettoni è sempre lì vicina, a un metro forse dalla Battigia o forse quasi in alto. È assolutamente vietato, perché si installano. Quello dovrebbe essere una zona solo di transito e di passaggio. Bene, allora... Conviene andare in spiaggia con i carabinieri, questa è la verità. Esatto. Conviene andare in spiaggia con i carabinieri, questa è la verità. Allora...